Il treno regionale veloce 21.34 di Trenitalia proveniente da Alessandria e diretto a Torino Porta Nuova delle ore 17.23 è in arrivo al binario 5. Attenzione allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale veloce 21.34 di Trenitalia proveniente da Chivasso e diretto a Pinerolo delle ore 17.25 è in arrivo al binario 4. Attenzione allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Attenzione allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione allontanarsi dalla linea gialla.